Joaquin Sanchez Rodriguez in arte e il piscia. Queste sono le giocate che hanno deliziato i tifosi di Betis, Valencia e Malaga e dalla prossima stagione della Fiorentina. Non un top player, termine che tanto va di moda, ci permettiamo di dire un total player che combacia perfettamente con il calcio totale espresso dalla Fiorentina 2012-2013. Tecnica, testa, intelligenza, visione di gioco, rapidità, passaggio al compagno e senso del gol. Joaquin, nato al Puerto de Santa Maria il 21 luglio 1981, ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina a titolo definitivo fino al 30 giugno 2016. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti